buongiorno 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 è stata una sera sono arrivata adesso in questo momento infatti ho acceso la stufa perché fa un freddo cane a casa e spero che riuscite a vedermi ciao a tutti sono arrivata adesso dall'italia sono cotta infatti prima di andare a farmi la doccia togliere tutto e mettere a lavare ho detto svuoto la valigia e condivido con voi le cose che ho comprato dall'italia e come ho preparato la valigia io sono andata con questo zaino e sono tornata la valigia perché lo sapevo io che compravo un sacco di cose in italia la mia piccolina l'ho lasciata delle mie amiche che sono state lucissime che mi hanno curata e guidata tanto invece il gatto viene venuta la signora per curarlo a casa guarda prima quando sono arrivata mi ha vista così ha capito che sono io e poi mi ha cominciato a saltare addosso dovevo farti il video dovevo farti il video io dunque faccio vedere non so se riusciamo aspetta che basso un po allora dunque valigia me l'ha data mi ha data mia sorella la piccolina aspetta che allora dunque faccio vedere prima questa poi dopo faccio vedere il zaino mi sa che sposto questo tavolo un pochettino di qua così riesco a farmi vedere allora così organizzato la valigia faccio vedere la bomba che c'è qua spostiamo tutto perché così faccio vedere allora dunque ho messo il sacchetto sotto vuoto perché salva un sacco di spazio il poi in aeroporto sinceramente io avevo paura che mi chiedono di di aprire e far vedere più che altro sia questa qua la aprivo ciao perché riesco ce la faccio eh ok come vedete ho messo l'ho messo sotto vuoto adesso lo faccio vedere tutto dunque apriamo questi sacchetti io l'ho presi infatti mi si è aperto un po' qua infatti adesso in questo momento l'ho rotto quando ho aperto la valigia vabbè sta avendo questo sacchetto io l'ho comprato dell'esse lunga e davvero è favoloso perché è abbastanza resistente dunque vi faccio vedere in generale cosa ho comprato allora ho comprato questi pantaloni dalla dalla calzidonia che sono larvi sotto e stretti sopra tipo zappa di rifante molto carini davvero molto carini allora li lascio qua eh poi questi qua sono i miei infatti che ho usato per l'andata tali mi aiuta questi qua li ho comprate ci sono alcuni simili sono vedete come sono belli l'ho presi dalla anche questi da calzidonia tutti sono scontatissimi ho fatto un sbaglio enorme che non ho non ho fatto il video a dico lungo ho sbagliato non so perché non ci ho pensato vabbè ho questa che carina che è questa qua è mio è da lavare questo qua mi la regalata mia sorella questo vestitino qua molto carino questo qua da lavare è una vettoria e questo cardigan molto carino da sera ho questo bagnone bianco che mi ha dato mia amica questo mi ha dato mia amica guardate che bellini che stupendi mi ho credito che metterò tutto a lavare e questa qua mi la regalata mia sorella questi qua e ho una tuta che anche questa qua mi la regalata mia sorella infatti la metterò in questo in questo pantalone di qua guardate che belli che sono guardate che belli che può essere una tuta sia per la casa che per uscire questo bagnone qua bagnone guardate quanta roba che col cavolo che ci stava in valigia questa bella camicia questo qua questo qua un cardigan molto carino questo qua un cardigan corto molto carino e questi legis da sera guardate che bellini che sono anche questi sono da calzedonia e li ho pagati ben 6 euro allora invece qua ho questa giacchettina che è molto carina ho questa sciarpa leggings che ho portato con me da qua per freddo questa magliettina ovviamente tutta questa roba qua tutto tutto da lavare questo bagnone ho preso da calzedonia questi leggings sportivi che ho comprato l'altra volta uguale ho preso un un eyeliner un rossetto della pupa lo ho comprato da 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 Bicolungo e questo vestitino qua guardate che bellino che è non so se riuscite a vedere è trasparente qua sopra trasparente sopra formato coriccino molto carino e poi leggings ne ho comprato una una quantità industriale guardate quanta roba quel cavolo che ci stava dentro questa valigia mettendolo sotto vuoto io ho comprato queste scarpette qua l'ho pagati 20 euro ora scontate il 50% da pittarosso molto molto carini adesso andiamo a parlare del sign libri questo ho cominciato a leggerlo segreto di da vinci e mi ho preso invece queste sono andate a casa di zio e sua moglie mi ha regalato le foglie di alloro infatti li farò li farò seccare per bruciare la casa per tolire l'energia negativa questo qua il telefono che mi ha regalato la mamma guarda la costituzione italiana che ce l'aveva la mamma a casa ha detto ma si la prendo e il cover del telefono allora dunque io questi libri qua alcuni ce l'avevo ce l'avevo a casa e altri sono andate all'usato all'usato ci sono dei libri davvero molto interessanti a prezzi proprio spacciatissimi invece questo qua il segreto di roma non so se riuscite a vedere a 2 non so se vedete non so a 2 euro e 75 questo qua ce l'avevo a casa e questo qua ce l'avevo a casa e questo qua le piccole cose per cambiare la vita 2 euro non so se riuscite a vedere 2 euro 50 io li compro così dunque calze da calzedonia vi faccio vedere i prezzi e sono scontati di 65% non so se riuscite a vedere 2 euro 45 e se ne prendete 3 una vi sale gratis infatti ne ho presi 4 poi andiamo avanti allora stamattina avevo un appuntamento questi qua sono oli per i capelli che mi ha fatto avere mia sorella dal Marocco infatti farò un video vi faccio vedere come li abito i capelli guardate che gioia che ho comprato lo so adoro che meraviglia ben l'ho pagato 17 euro 90 da calzedonia da prima donna infatti sono della prima donna non so se riuscite a vedere di qua costavano costavano 60 euro e l'ho pagati 17 euro contentissima contenta contenta e poi niente qua rimane solo i trucchi che ho portato con me la cuffia quella che non deve mancarmi mai i tacchetti per le scarpe il pettine che quello non mi manca mai e la camicia di quello che ho usato e la sciarpa dell'andata perché avevo una sciarpa di rinforzio ah mi faccio vedere anche la giacca vabbè tante cose calze da lavare e poi qua l'auricolare portafoglio carica batteria tutte queste cose qua e il cornetto che mi ha regalato mia amica che è andata a Napoli e vi faccio vedere l'ultima cosa aspettate ho comprato questa sciarpa qua stupenda meravigliosa che mi è piaciuta tanto e guardate che meraviglia questo che mi ha regalato mia sorella bellissimo è sintetico ovviamente bella gente se vi piace questo tipo di video che ogni tanto quando vado di viaggio che vado raramente vi faccio questi video bella gente se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciatevi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità un saluto da me da Kali e da Mestergatto che sul divano adesso vado a farvi una doccia sono cottissima grazie a tutti ciao e buonanotte grazie a tutti